Ciao giovani, ricordate la lezione della scorsa volta? Abbiamo visto la scena nona del Don Giovanni di Mozart, questo incontro di seduzione tra Don Giovanni e Zerlina. Masetto è stato allontanato, suo malgrado, e Zerlina rimane sola con Don Giovanni, che gli fa un discorso molto esplicito. Eccolo qua. Sentite un po'. Al fin si han liberati, Zerlinetta gentile, da quel scioccone. Che ne dite mio ben? So far pulito, cioè so pulire bene dagli sciocchi la mia strada, dei miei incontri. E poi dire scioccone a Masetto. Subito Don Giovanni, nelle prime parole che dice a Zerlina, crea una distanza. Mio ben, mio bene, mia cara, no? È un modo molto gentile, affettuoso di rivolgersi a Zerlina, è scioccone, è un modo molto spregiativo per rivolgersi a Masetto. Quindi in questo modo Don Giovanni crea distanza nella coppia tra lui e lei. Zerlina si ribella subito, ma con molta indecisione. Signore, è mio marito. E sentiamo come Don Giovanni continua a creare questa distanza. Chi? Colui! Ma vi pare che un onestuomo, parla di se stesso, un nobile cavaliere come io mi vanto, possa soffrire, possa accettare, possa permettere, che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifocaccio vil sia strapazzato. Quindi ancora parole spregiative per Masetto, bifocaccio vile, e parole dolcissime, proprio in tutti i sensi, inzuccherato per Zerlina. Zerlina continua la sua debole, sempre più debole difesa di Masetto. Signore, io gli die di parola di sposarlo. Ma vedete che la difesa di Zerlina parte sempre da se stessa. Lei non dice, no, è un bravo ragazzo, ma dice, io, che sono una donna seria, gli ho dato parola di sposarlo per mia misericordia, dovrebbero dire, no? Sentite come Don Giovanni annichilisce, in proprio, nel vero senso della parola, la difesa di Zerlina. Tal parola non vale un zero, con una licenza poetica, e si direbbe uno zero, come sapete. Questa parola non vale nulla. Cioè, se tu manchi a questo giuramento, a questa parola che hai fatto a Masetto, non perdi il tuo onore. e continua a sedurre Zerlina. Voi non siete fatta per essere paesana, per essere una contadina. Un'altra sorte. Che meriti ha Zerlina? I meriti che Don Giovanni vanta di Zerlina. Un'altra sorte, che vi procurano quegli occhi birconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tucce candide odorose, parmi toccar giuncata e fiutar rose. Cioè, i meriti di Zerlina sono i suoi occhi, le sue labbra, le sue dita, che evidentemente Don Giovanni forse bacia, adesso non ricordo che il regista che scelta fa. Cioè, i meriti di Zerlina sono la sua bellezza. Attenzione che questo ragionamento è un ragionamento molto sessista. Che merito ha questa contadina? Ha l'unico merito di essere bella, ma è un punto di vista molto particolare per valutare il valore di una persona. E Zerlina, questo ritornello che sentiremo altre volte, non vorrei, non vorrei, che vuol dire vorrei? In realtà, no? Così come nel duetto, stupendo, le prime parole di Zerlina sono proprio vorrei e non vorrei. Come continua? Che cosa non vorreste? Sentite? Zerlina ha già abbandonato la difesa di Masetto. Sta parlando di sé. Al fine, ingannata a restare. Ho paura di restare in fondo, poi ingannata. Perché io so che raramente, raro qui l'aggettivo usato come avverbio, io so che raro con le donne, voi altri cavalieri, siete onesti e sinceri. Cioè, Zerlina è già accotta, ma Don Giovanni ha già tolto dall'argomento Masetto, che ha umiliato e distrutto di fronte a Zerlina, ha esaltato Zerlina e lei rimane questo ultimo elemento di resistenza. Potrebbe ingannarmi, mi sta illudendo? Come Don Giovanni elimina anche questa questa perplessità di Zerlina? La perplessità è questa. Radamente voi cavalieri siete onesti e sinceri con le donne. È un'impostura della gente plebea. In questa gente plebea in qualche modo Zerlina non è contemplata. È stata già tolta dalla sua situazione di paesana, no? Per virtù della sua bellezza. È un'impostura della gente plebea. La nobiltà ha dipinta negli occhi l'onestà. Non perdiamo tempo. In questo istante io ti voglio sposare. Qual è l'arma finale che Don Giovanni utilizza? È non dare tempo di riflettere. Non dare tempo di riflettere. Togliere a Zerlina velocemente le sue obiezioni, separarla da Masetto e non dare tempo. Guardate che il tempo prima di una decisione è l'elemento fondamentale. È un consiglio diciamo così spassionato. Se una persona ti costringe a decidere subito ti sta fregando al 90% basta pensare a commercio. Ti sta fregando quando ti chiamano i call center e ti dicono che subito devi cogliere quell'occasione. Zerlina si trova di fronte a un'occasione l'occasione di smettere di essere contadina di essere una signora la moglie di un nobile cavaliere lei sa che è un'occasione imperdibile per lei è molto gustosa poi sicuramente Don Giovanni è avvenente carino e le promette le nozze cioè quell'argomento che rende serio il discorso ovviamente è una bugia il regista nella edizione che vi ho suggerito di guardare mette molto in luce come Don Giovanni sta palesemente mentendo ma Berlina Zerlina resta sconcertata voi certo io quel casinetto è mio soli saremo e la gioiello mio ci sposeremo come se il matrimonio si potesse fare in fretta e furia da soli no? non vale nulla eh non vale nulla senza testi e quindi c'è il duettino il duettino famosissimo che sicuramente avete sentito e come funziona questo duetto vi do alcune indicazioni nel prossimo video così magari vi do il tempo di un attimino riflettere un attimino